Salve e bentornati nel TG dell'edicola di Ange di Monterotondo. Io sono Andrea, il vostro super giornalaio. E' la rubrica che ci terrà aggiornati sulle nuove uscite settimanali. Yes! Se possedete uno smartphone ed utilizzate l'applicazione Whatsapp, fate un salto in edicola. Richiedete l'attivazione del servizio che vi terrà informati in tempo reale delle uscite che state aspettando. Amate leggere? Amate i licantropi e i vampiri? Abbiamo i prodotti che fanno per voi. The Twilight Saga. Quattro libri che ci racconteranno la storia d'amore tra umani, licantropi e lupi mannari. Amate la musica house? Potrete ascoltare il nuovo cd M2O. Con 15 tracce che vi faranno ballare per settimane intere. L'astrologo Branco ci propone l'almanacca astrologico 2014 ad un prezzo di 10 euro. Dove ci anticiperà segno per segno, amore, lavoro e denaro. Dal 3 dicembre, con Sorrisse e canzoni tv, troveremo la prima uscita del volume Diabolic contro Eva. L'opera completa sarà composta da 10 uscite settimanali. La prima avrà un prezzo di 2,40 euro. Le uscite successive avranno un prezzo di 5,80 euro. Anche per questo episodio è tutto. Perciò, cosa fai ancora lì impalato? Corri in edicola, ti stiamo aspettando. Scatrattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattattatt